Buonasera e un saluto a tutti i tifosi delle Zebbre. Sono Manici Andrea, extra nonottore di questa squadra. Alcuni di voi si ricordano di me, altri che si sono avvicinati a questo sport da poco sicuramente non avranno grandi ricordi, perché purtroppo è un po' di tempo che non riesco a scendere in campo. Sono qua stasera solo per ricordarvi che domenica sulla pagina delle Zebbre andrà in onda un grande re-edit. La storica vittoria su Aster. Partita che ci ha visto uscire dal campo vittoriosi dopo un primo tempo molto combattuto. Mi raccomando, non perdetevela perché ne vedrete delle belle.